In una terra lontana, lontana, migliaia di piccoli e adorabili pinguini sono in pericolo. Ci sarà un modo per spaventare le volpi? La loro unica speranza è un cane, decisamente pasticcione. Se mettiamo Giotto sull'isola, credo che proteggerà i pinguini. Da un'incredibile storia vera e di amicizia. Giotto, l'amico dei pinguini. Giotto! Mamma mia, che schifo! Dal 29 ottobre al cinema.